Signore e signori, benvenuti dal vostro mic. Oggi andremo a vedere alcuni effetti speciali per arricchire il nostro suono con la tromba. Il primo effetto che andremo a vedere si chiama vibrato ed è un effetto che arricchisce il nostro suono dandogli delle grandi dinamiche, soprattutto nelle note lunghe. Prendiamo ad esempio un grande classico del jazz come Summertime. L'inizio del nostro brano è caratterizzato da quelle due note lunghe. Ecco che invece col vibrato possiamo dare molta più dinamicità alla seconda nota lunga, il sì per capirci. Per eseguire il vibrato non faremo altro che eseguire una nota lunga, appoggiare la mano sui pistoni in corrispondenza del pistone che premiamo o se la nota è senza pistoni appoggiando sopra così e muovere leggermente, esercitare una leggera pressione che avvicina e allontana il bocchino dal nostro labbro. Un altro divertente effetto si realizza quando noi andiamo a comprimere solo metà di un pistone. Molti alunni mi chiedono durante le azioni, ma cosa succede se premo mezzo pistone? Possiamo ottenere diversi risultati. Innanzitutto, venendo magari da un acuto, andiamo a scendere creando una cromaticità di suono, andando a premere in maniera casuale tutti i pistoni sempre a metà, fino a arrivare alla nota finale. Oppure possiamo concentrarci anche in un fraseggio, smorzare una nota particolare del fraseggio per dargli un tono più jazz. Restando sempre su Summertime, la conclusione del tema che conosciamo tutti è... Possiamo invece eseguirla in questo modo, glissando, smorzando la nota. Altro effetto speciale, molto divertente, è quello che gli americani chiamano Flutter Tone, ovvero tradotto in italiano, è lingua fluttuante. Questo è un effetto che dà l'idea di un suono un po' macio, è una sorta di... Sì, quel modo di suonare un po' spinto che hanno alcuni trombettisti, come Arturo Sandoval, ad esempio, primo fra tutti. Pure a me piace usarlo, se date una sbiricciata ai miei video vedrete che ogni tanto lo uso. Allora, per chi non riuscisse a farlo in maniera naturale, è molto semplice la tecnica. Non bisognerà fare altro che sollevare la lingua e appoggiarla sul tetto della bocca, che è il palato, facendo questa cosa qua. A questo punto, soffiando e creando la vibrazione, avverrà quel RRRR, che dà questo suono graffiato e spinto alla nostra tromba. Prendo la tromba, metto la lingua sul palato. Spero che questi consigli vi siano serviti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se vi serve una guida per approfondire questi o altri temi della tromba, sentitevi liberi di scrivermi una mail al mio indirizzo, che trovate nella descrizione del video, con cui poi concorderemo una videochiamata in streaming, dove vedremo un attimo quali sono le cose da modificare nel vostro suono. e restano disponibili i miei link ai corsi online, quello base per andare ad avere un approccio al suono, iniziare a suonare, e quello successivo per iniziare a divertirsi un po' con questo strumento. Grazie di essere stati con me, alla prossima! Grazie a tutti!